bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video allora non si sentirà niente perché sono al mare ma non è un video del mare e parlerò di esports fc24 che adesso ve lo lascio qua ecco esports fc24 non è altro che fifa 24 e oggi parlerò solamente di quello sì e non è altro di fifa 24 perché hanno preso questa decisione di fare esports fc24 al posto di fifa 24 io non lo so ma secondo me ragazzi la qualità dei giocatori e anche delle nuove funzioni saranno molte altre cioè molto molto alte e secondo me i giocatori saranno cioè si vedranno molto bene tipo mi ricordo che chiesa su fifa 23 era era bruttissimo e quindi spero che i miei esports fc24 sia molto più bello e anche tutti spero che siano molto più belli e dicono dicono che forse i miei esports fc24 ci sarà anche la serie c perché per adesso c'è la serie a e la serie b e mi sa che ci sarà anche la serie c ragazzi quindi poi ho contro ho visto che nella copertina che potete vedere qua nella copertina di esports fc24 c'è anche chiesa della juve quindi secondo me chiesa rimane questo ragazzi era un video velocissimo spero che video oggi vi sia piaciuto e ciao 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 ciao